Buonasera a tutti, ben ritrovati, ci fa piacere in modo particolare vedere che l'iniziativa ha un seguito e speriamo che diventi sempre più grande questo seguito, però evidentemente gli argomenti proposti sono interessanti per parecchi di voi e questo ci fa piacere. Questa sera noi vorremmo parlare di democrazia perché pare essere un argomento divenuto improvvisamente centrale e importantissimo, soprattutto anche a seguito delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica rispetto alla democrazia, cosa vuol dire la democrazia, la democrazia dei tanti, la democrazia dei pochi, è un argomento che a noi interessa particolarmente. In generale a mio avviso c'è un elemento che riguarda la politica, la crisi delle democrazie occidentali, è un tema molto ampio e mi piacerebbe sentire un po' la vostra opinione, in particolare quella di Matteo perché so che è interessato, insomma il tema ci tiene particolarmente, quindi do immediatamente il là a lui per sapere che cosa ne pensa di questo mondo della democrazia occidentale e di queste discussioni recenti. insomma, vai Matteo. Grazie Katia, buonasera a tutti. Allora, introdotto bene il tema, è una cosa su cui noi come Don Quixote abbiamo ribattuto ultimamente, soprattutto per quanto riguarda delle riflessioni che abbiamo fatto in seguito alle lezioni, alle ultime lezioni. Abbiamo visto che in Italia le lepre europee sono state un grosso spartiacque, secondo molti, ossia siamo arrivati alla cosiddetta maggioranza degli assenzionisti. Gli assenzionisti abbiamo visto che chi non ha votato in Italia sono ormai una maggioranza e questo diciamo che è un po' buone per chi valuta questo dato come un segnale invece che soltanto in senso procedurale, insomma come un grosso problema forse di democriticità che sta vivendo il paese. Come abbiamo visto anche tra l'altro confermato con le elezioni recenti in Francia, perché in Francia al contrario l'imprema stravinto con una grossa partecipazione, i francesi hanno votato, le percentuali sono alte, quindi si tratta di un problema principalmente italiano. In Italia la popolazione, il popolo sta dando questo segnale di non partecipazione inattiva alla politica e questo se vediamo anche i dati degli ultimi 20-30 anni è un grosso cambiamento e appunto come già anticipato pone a mio avviso, ma appunto non solo io, anche voi presenti ritengo, una grossa ecco impressione da porre. Siamo appunto in un momento in cui bisogna forse ripensare non tanto quello che è il sentire del popolo nel voto inserito all'interno del sistema partitico, perché ovviamente la chiacchiera politica rimane preclusa in un'arena ancora fatta di bandiere, delle bandiere che vediamo ormai da 30 anni, da 40 anni, che sono quelle dei partiti rappresentanti più o meno di vecchie forse ideologie, mutatis mutandis, che forse rappresentano poco appunto questa Italia di oggi, visto appunto il segnale del voto, quindi qual è il punto? Il punto è che stiamo vivendo non soltanto un grosso cambiamento politico, ma appunto forse ci sono tante questioni diciamo così sotto questo dato. Siamo in un mondo che sta veramente accelerando in termini di cambiamenti sociologici, cambiamenti tecnologici, il mondo che si è fondato su certe idee politiche, quelle che hanno dato forma alle cosiddette repubbliche, la prima, la seconda, adesso c'è anche chi parla di terza repubblica, soprattutto insomma dopo le elezioni di qualche anno fa, ma non è forse arrivato il momento di mettere in discussione proprio le fondamenta. Cosa vuol dire? Un popolo su cosa si fonda? Si fonda su appunto un momento costituente, la repubblica è nata su che cosa? Su un momento costituente che ha dato vita ad una legge fondamentale, questo vale non solo per l'Italia ma per tutti gli stati, per tutti gli stati moderni, contemporanei. La Costituzione italiana si è creata in seguito a una vicenda tra virgolette ecco intensa, immediata diciamo uno spartiacque che è stato quello della seconda guerra mondiale, della fine della seconda guerra mondiale e quindi il popolo italiano diciamo così politicamente è sulla scia di questi anni repubblicani e hanno quei valori là, di quella generazione, la generazione dei nostri nonni, di chi ha fatto la guerra, di chi ha vissuto il fascismo, di chi ha fatto la resistenza e sono valori che hanno dato le fondamenti appunto, hanno messo le radici di quelli che sono i valori fondamentali. La Costituzione rispecchia questi valori rispecchia, tra l'altro senza bandiere perché la Costituente fu fatta da tutte le parti politiche, di destra, di sinistra, insomma, gli unici esclusi furono i comunisti, però ecco è fondata su quei valori. Quindi la riflessione per concludere è da una domanda, un sa che ci siano soluzioni perché ovviamente è sottoscritto, diciamo così, non è che ha delle soluzioni pronte all'uso, ma non siamo forse nel momento in cui si debba pensare che in modo attuale non rispecchi forse, non dico del tutto, ma non in modo adeguato, quello che è stato il mondo delle vecchie generazioni. Dopo gli ultimi trent'anni le generazioni attuali arrivano ad un altro universo, proprio un'altra mentalità. Cioè se prima c'era un sistema partitico, c'erano delle certe ideologie, dopo quella fine della cruzata del muro di Perlino, dopo i cambiamenti della Repubblica Italiana, dopo diciamo le vicende degli ultimi trent'anni che sono quelle fondate sulle ideologie di neoliberalismo, di progressivo inserimento in un mondo globalizzato, americano-centrico, unicolare. Infatti oggi di cosa si parla anche a livello internazionale? Il multipolarismo. La prossima tendenza sarà quello che c'è sul tavolo di tutti gli analisti politici mondiali e non solo politici. Quindi non è il caso di ripensare fondamente alla luce di questo nuovo mondo. Forse si può parlare di nuovo mondo secondo voi e quindi di proporre un momento originario, un momento originario non può essere costituente se non piace, diciamo così, in cui tutti indipendentemente dalle fazioni si debba un attimo ritornare a ripensare sui principi fondanti. e quindi ecco, lascio la parola a voi, avete ascoltato gentilmente. Grazie, grazie. Grazie Mattino. La domanda è di una complessità enorme, insomma, perché veramente, soprattutto bisognerebbe decidere su cosa rifondare il tutto. Io sinceramente, sai, il problema qui secondo me è anche il fatto che ci sono delle fette, diciamo, di classi dirigenti, secondo me, politiche, ma non solo, che vedono, a mio avviso, molto di cattivo occhio, con cattivo occhio, con uno sguardo direi non positivo, quelle che sono le volontà comunque della maggioranza delle persone. Cioè, secondo me c'è un po' questo problema di provare a ristudiare la democrazia in modo che sia effettivamente blindata contro certe spinte, secondo me, antidemocratiche. Adesso poi magari parleremo poi eventualmente anche delle analisi del Presidente della Repubblica. Però volevo chiedere a Diego che cosa ne pensavo di questo discorso. Senta anche lui questa emergenza, urgenza come Matteo? Allora, diciamo che intanto ho apprezzato moltissimo l'intervento di Matteo, vi faccio i complimenti perché è veramente un intervento molto profondo sulla materia. Io forse mi sono abbastanza analitico, quindi cerco di vedere com'è la situazione, confrontarla con il passato, vedere quali sono le proiezioni per il futuro, se si continua con questo trend. E diciamo che la situazione non è che è di emergenza, la situazione è di una decadenza, più che emergenza, è una decadenza della democrazia come noi la conosciamo. Domanda? Però dipende cosa tentiamo per democrazia. Io non so se essere dominati da un'oligarchia si possa chiamare democrazia. Perché alla fine non è un incidente e non bisogna, adesso voglio dire le cose pane al pane, il vino al vino. Noi in Occidente abbiamo gli oligarchi, sono quelli del mondo anglosassone, angloamericano, che dominano su tutti i paesi dell'Unione Europea e dell'Occidente. Ditemi se mi sto sbagliando. Chi finanzia le campagne elettorali? Con gli oligarchi, sia da una parte che dall'altra. Comunque sia, chiunque vinca, loro vincono. Tanto li finanziano tutti e due, i contendenti, i finali. Quindi alla fine noi siamo in una democrazia sì, formalmente, ma di fatto siamo una democrazia? Se in un momento in cui abbiamo un'informazione, abbiamo canali tv nazionali e internazionali che fanno propaganda per l'una o per l'altra parte, entrambe pagate dalla stessa oligarchia. Alla fine è questo, no? Pagano le varie campagne elettorali e poi pagano anche le tv. Se mi spiego. Quindi non è che ci sia tanto margine di informazione, di dibattito politico. Il momento in cui la gente viene informata, tra virgolette, ovvero è soggetta della propaganda, senza saperlo. Magari si fida dei Tg, senza sapere che magari i Tg fanno propaganda, in maniera anche spudorata ultimamente. A questo punto mi domando, ma che democrazia c'è nel momento in cui il mondo dell'informazione non fa parte dei poteri di uno Stato, oggi come oggi? L'informazione è un potere talmente grande, di rovesciare governi, di rovesciare ciò che è giusto e invece quello che è sbagliato, di rovesciare, quindi quello che è bene diventa male e quello che è male diventa bene, perché questo fanno molto spesso, che alla fine io mi trovo davanti a delle persone che in buonissima fede procredono molto spesso a quello che dicono in televisione. Anche se quello che dicono in televisione magari, come avviene ultimamente, negli ultimi due anni, non è argomentato, ma viene semplicemente lanciato come slogan. Però siccome lo dice la tv non ha detto al Tg, è vero o sarà vero. E quindi io mi domando, c'è democrazia se c'è un'informazione così che non c'è? È propaganda, è manipolazione, è mistificazione della realtà. Si fa trappolare quello che fa comodo. No, no, ma Diego, certo, però sarai d'accordo con me sul fatto che comunque nonostante la propaganda, nonostante i soldi, nonostante tutte queste belle cose, succede che a volte il voto vada in una direzione che non piace, diciamo all'elite, alla dirigenza, cioè quello che è successo anche col voto europeo, ecco, non è che voglio dire sì, la bozza, ce la raccontano, ma secondo me non è piaciuto molto. Questo è evidente, cioè loro pensano che le persone siano delle pecore, ma in realtà sono persone, non sono pecore, sono umani, uomini, donne. Ok, sono pensanti, hanno un cervello, pensano, riflettono spesso, quando non sono troppo impegnati a cercare come sopravvivere, come avvino ultimamente, perché ci intengono in uno stato di apnea economica per costringerci a pensare a come sopravvivere, come campare, senza pensare alle cose alte, come possono essere la politica, le cose, filosofia, teologia, religione, ci costringono a pensare come animali, cosa posso mangiare, appunto. Però, dicevo, oltre a questo, loro hanno la voglia di essere blindate da questo punto di vista, quindi controllano sia il partito del destra, diciamo, sia il partito di sinistra con tutte le loro varie satelliti, e sia vogliono cercare di controllare questo partito dell'assenzionismo, come lo chiamo io, no? un vero e proprio partito. Quindi loro, secondo me, ma anche vedendo, insomma, i dati di fatto, si muovono creando dei partiti gatekeeper, ossia per partiti di finta opposizione, e questa è una lunga, voglio dire, una lunga tradizione anglosassone, basta pensare alle politiche fabiana, i fabiani, e prendono il nome, appunto, da Quinto Fabio Massimo, che diceva sì, la rivoluzione, ma non adesso. Quindi, magari, parlavano di cose per attirare il dissenso, però, dicevano, non è questo il momento di fare la rivoluzione, tra virgolette, di smuovere le cose con le riforme, cioè, avevano ancora tutto il tempo, quindi usano la strategia del temporeggiatore. È cosa che fanno anche i nostri partiti di dissenso. Quindi loro partono con raccoglimento di dissenso e poi si spengono. E spengono anche di dissenso. Sì, certo. Senti, Fabio, se ti sposto... L'obiettivo, poi, è di controllare l'astensionismo, che non è soltanto un mero partito del dissenso spento, di gatekeeping, ma è un vero e proprio incentivo all'astensionismo, con varie metodologie molto accurate dal punto di vista della psicologia di massa. E questo va, dice, gran lunga sul perché queste persone vogliono l'astensionismo. Questi oligarchi vogliono l'astensionismo. Cioè, vogliono che la gente si disinteressi della cosa pubblica, di quello che fa lo Stato, perché non vorrebbero mai che lo Stato, appunto, comincia a fare lo Stato e gli va a rompere le balle. Ok? Dicendo, guarda... Diego, scusami se ti interrompo, ma io so che su questo, Fabio, non credo che la pensi come te. È corretta? È vero, Fabio. Secondo me, sul tema dell'astensione, tu hai un'idea completamente diversa. O sbaglio? Sì, effettivamente, su quest'ultimo punto, anche se condividevo il resto che ha detto Diego. Intanto, salve a tutti e ben trovati in questo appuntamento ormai settimanale. che ci arricchisce tutti. Speriamo anche che arricchisca e ci ascolta. Allora, sì, sull'ultimo punto, sinceramente non concordo, anche perché la volontà, almeno manifesta, espressa, sia da tutti i partiti politici e per infine il Presidente della Repubblica prima delle elezioni era quella di andare a votare per legittimare, per dare in un certo senso una legittimazione postum a queste istituzioni europee che di legittimi, di sovranità non hanno niente. Insomma, loro cercano di rendere un po' sovrane queste istituzioni che sono nate con degli accordi intergovernativi, prive appunto di potere costituente, perché non esiste un popolo europeo di fatto, non esiste una costituzione europea. Nei paesi dove è stato provato ad approvare una costituzione, l'operazione è fallita. Quindi io credo che l'astenzionismo invece faccia paura, perché poi io mi vorrei concentrare un po' sull'Italia, no? Perché insomma, come ha detto Matteo, abbiamo superato il confine con le elezioni europee, la maggioranza non va a votare. A dispetto di qualsiasi quorum o di qualsiasi legge che si possa scrivere, oggi qui parliamo di stati, ma anche se parliamo di comunità, parliamo di qualunque cosa, di raggruppamenti di persone, se la maggioranza non partecipa, lo Stato, il raggruppamento, quello che è, non si può dire democratico, no? E quindi, ecco, veniamo a quello che condivido, che ha detto Diego, e quindi arriviamo a delle forme di governo che non sono più democratiche, forme di Stato non più democratiche, qui possiamo arrivare alle oligarchie, fino ad arrivare ai regimi, insomma. In Italia, insomma, il popolo sta dando un grande segnale. Pensiamo che un partito che si è presentato con il nome Stati Uniti d'Europa non è riuscito ad entrare in Parlamento. Quindi è un chiaro segnale che il nostro popolo, che gli italiani di questa Europa non ne volevano sapere niente all'inizio, magari inconsciamente non erano stati neanche avvertiti, e oggi non ne vogliono sapere più niente, insomma, di questa Europa. E quello che deve sorprendere, ci deve più che altro far riflettere, è che invece i nostri politici stanno andando dritti, 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 addirittura per un più Europa, per un più Europa, si cerca di trasformare le messe in un fondo sovrano, si vuole fare, si vuole spendere per una difesa comune, fare un debito comune per la difesa, cioè fare un esercito europeo, si vuole l'Unione bancaria, si vuole l'Unione fiscale, quindi si vuole cercare di rendere sovrane queste istituzioni, almeno sovrane tra virgolette, perché poi dopo il piano è quello poi di rendere tutto, di mettere tutto in mano a questa Commissione europea, o forse la BCE, o quello che sarà queste istituzioni che non sono elette da nessuno e di fatto non sono, non hanno sovranità popolare. Quindi, niente, ripeto, condivido tutto quello che ha detto Diego all'inizio, su questa cosa che i nostri poteri fa con l'astenzionismo, non credo, perché di fatto, insomma, se alle prossime politiche si manterrà questa percentuale che supera la maggioranza degli astenuti, insomma, il governo andrà a nascere, dobbiamo renderci conto, anche se di fatto oggi è un governo di fatto oligarchico, perché è comandato da un ristretto gruppo di persone che fanno proprio quello che vogliono, non rispondono più al popolo. Questo è evidente che i nostri politici non rispondono più al popolo, l'ho detto anche prima, no? Cioè, uno dei nostri leader più influenti, perché va a supportare il governo Draghi, va a supportare qualsiasi del governo, per esempio Matteo Renzi, che da anni, da anni si presenta, addirittura si è presentato insieme a Bonino con Stati Uniti d'Europa, non è nemmeno entrato dentro nel Parlamento, quindi questo, cioè, i nostri politici dovrebbero riflettere e dire, ragazzi, qui la sovranità, il popolo richiede altro, facciamo un passo indietro, ecco che arriviamo al punto di Matteo, se i nostri rappresentanti non fanno questo passo indietro, il popolo deve riapproparsi di questa sovranità e addirittura anche riandare a ridiscutere certe situazioni costituenti, come appunto il sistema dei partiti, che di fatto oggi è completamente scollegato dai principi della Costituzione, ecco, questo è un po' il mio parere, che poi ho scritto anche in tanti articoli, infatti Katia ha accorto il punto, ha accorto il punto, ecco. Esatto, esatto, non siamo presso questo. Esatto, siamo d'accordo, nel senso che, secondo me, qui le letture sono molteplici, però io volevo, prima di ascoltare cosa ne pensa Massimo, volevo farvi vedere queste due slide, se Giulio mi aiuta cortesemente, perché sono praticamente i titoli delle agenzie, ecco, questo è uno, questo è il Tg3, il quale citando appunto il richiamo del Presidente della Repubblica, dice appunto, cita, no all'assolutismo della maggioranza, la democrazia rischia di essere distorta nel nome del dovere di governare. Io però dico, ma la democrazia non è esattamente questo, nel senso che chi vince delle elezioni solitamente dovrebbe governare, quindi quando leggo l'assolutismo della maggioranza non riesco a capire dove si voglia andare a parare, però probabilmente è un limite mio, adesso chiederò Massimo di aiutarmi a capire, c'è comunque una dichiarazione proprio del profilo X del Quirinale, che è la slide successiva Giulio, per favore, dove c'è anche qui una, siccome parliamo di appunto, eccola qui, allora democrazia, parola di uso comune, le dittature del Novecento non hanno identificata con un nemico da battere e va bene, però anche qui c'è una frase finale che dice insieme a una conquista una speranza che a volte si cerca in modo spregiudicato di mortificare ponendone il nome a sostegno di tesi di parte. E anche qui io, ma non ho capito in che senso, cioè è chiaro che dei partiti hanno delle tesi di parte, è un po' la stessa radice etimologica credo, quindi grazie Giulio. Quindi secondo me c'è qualcosa che non è chiarissimo in questa visione della democrazia che dovrebbe essere la democrazia anche delle minoranze che va benissimo, però dobbiamo intenderci allora, come la studiamo questa cosa? Quindi Massimo, aiutami a capire perché sicuramente sono io che non capisco, però c'è qualcosa che non mi quadra. Queste affermazioni di Mattarella mi sembrano andare nella direzione del più assoluto relativismo, perché dice tutto il contrario di tutto. La democrazia è comunque il governo della maggioranza che chiaramente deve essere esercitato tutelando anche le minoranze. il problema è che oggi come oggi ci troviamo nella dittatura delle minoranze, perché se noi guardiamo quello che pensa la gente comune sul gender, sulla guerra con la Russia, su moltissime cose, pensa esattamente il contrario di quello che i politici poi realizzano. Questo probabilmente ci dice che cosa? Che la democrazia è molto in crisi. Perché è in crisi? Per tutti i motivi che hanno già detto Diego e Fabio, cioè soprattutto il fatto che ci sia stata una grandissima concentrazione di ricchezza che ha permesso a pochi soggetti di prendere il controllo di tutti i media, quindi dei giornali, delle tv eccetera, quindi di poter portare avanti una narrazione mainstream che funziona da propaganda per quelli meno informati e anche quelli più ingenui direi, è chiaro che è un grosso problema. A questo si aggiunge cosa? Un'organizzazione come quella europea che ha l'obiettivo, secondo me posso sbagliarmi, di allontanare sempre più il centro di potere dal popolo. E questo fa soffrire la democrazia. Perché se noi pensiamo anche al Medioevo, dove di democrazia in linea teorica non ce n'erano, almeno per come la interpretiamo oggi, se tu avevi il signore che rompeva troppo le scatole ed esagerava, la comunità che gli stava intorno a lui e ai suoi sgherri con i forconi gli faceva capire che aveva esagerato. Quindi riuscivano in qualche maniera ad andare avanti, non dico d'amore d'accordo perché ognuno cercava di fare i suoi interessi, ma non potevano esagerare. Perché? Perché erano vicini. Ma nel momento in cui tu hai dei governanti che stanno a Bruxelles, fanno esattamente il contrario di quello che anche il voto ha espresso, perché adesso il fatto anche che propongano ancora di nominare come presidente della Commissione Europea la von der Leyen. È stata probabilmente il peggiore presidente che abbiamo avuto della Commissione Europea. Il popolo si è espresso, mi sembra, chiaramente sul fatto che non sia stato contento di questi ultimi cinque anni di Unione Europea, però loro se ne fregano del voto e vanno avanti come dei treni su quelli che sono i loro obiettivi target. Quindi, e qui torniamo a quello che avevamo già detto altre volte, cioè il popolo deve riprendersi in mano le redini del proprio destino politico, perché personaggi come Enrico Mattei, come il sindacalista di Vittorio eccetera, hanno potuto portare avanti delle istanze perché dietro avevano un popolo che li supportava. Enrico Mattei l'hanno pure ammazzato, però avevano dietro un popolo e questo il sacrificio di Enrico Mattei comunque è servito per qualche decennio a far vivere bene il popolo perché il popolo gli stava dietro. Se adesso tutti ce ne freghiamo della politica, preferiamo la sera stare sul divano a guardarci il grande fratello, piuttosto che a farci l'apericena perché ho lavorato tutto il giorno e ho diritto a rilassarmi, questo per chi è fortunato un lavoro ce l'ha e un lavoro che gli permette di fare gli apericena, non andremo da nessuna parte. Quindi tutti noi dobbiamo riprendere in mano la voglia di fare politica, quindi di informarci, quindi di anche esercitare il nostro spirito critico perché non è possibile anche credere a tutte le idiozie che ci passano i giornali, i telegiornali e che poi dopo uno, due, tre anni vengono anche smentite. Ragazzi io mi ricordo quando si parlava degli accordi di Minsk per esempio e c'era Mattarella che addirittura si rivolgeva a Putin dicendogli che lo stimava, che doveva portare avanti le istanze di pace eccetera e poi dopo la Merkel salta fuori a dire che gli accordi di Minsk li ha fatti per prendere tempo per poter fare la guerra alla Russia. La gente riesce a fare uno più uno. Cioè una persona normale a sentire queste cose non deve incavolarsi fortemente con i politici e chiamarli alle loro responsabilità. Avete visto qualcuno scendere in piazza? Qua ci troveremo con i figli mandati in guerra però nessuno fa una piega e queste discussioni l'ho fatte con gente anche che ha figli, cioè gente della mia età quindi che ha figli di 20, 25, 30 anni che possono essere richiamati, sono preoccupati. Quando gli dico vabbè cosa facciamo? Scendiamo in piazza? Nel caso ti guardano come per dire ma scendere in piazza non mi sembra il caso. Vabbè allora mandiamo i figli in guerra. Cioè capite che la democrazia è in crisi anche per responsabilità dei popoli. L'elita hanno sempre cercato in qualche maniera di prendere il potere più assoluto possibile. Non ci sono riusciti quando? Quando i popoli si sono opposti. Se non ci opponiamo, se non portiamo avanti le nostre istanze con decisione, che non vuol dire con violenza, però se non cominci a riempire le piazze non andiamo da nessuna parte. Cioè è inutile che continuiamo a fare gli esperimenti tipo i 5 stelle, che poi abbiamo visto cosa hanno fatto, dovevano ribaltare, ribaltare, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Si sono mangiati il tonno, si sono mangiati anche la ricciola, si sono mangiati tutto. Tutto il pesce azzurro che abbiamo si sono mangiati. Quindi, scusate se un po' mi inalbero, parlo di democrazia, veramente voglio richiamare con forza anche tutti i nostri concittadini a prendersi le loro responsabilità. Secondo me il tuo ragionamento non fa una piega. Io tra l'altro non so se Matteo è per caso ancora collegato, se ci sta seguendo, perché poi mi piacerebbe anche un po' sentire la sua opinione rispetto alle iniziative politiche, per esempio, dei giovani. Perché anche lì, secondo me, c'è una certa latitanza, cioè rispetto agli anni in cui noi boomer andavamo a liceo dove c'era comunque una vitalità, anche lì secondo me molto etero diretta, ma comunque in qualche modo c'era un interesse. Adesso effettivamente ci sono delle situazioni che sono anche diverse. Però, vedi, io mi chiedo, ma se un sistema decide che c'è, parlo dell'Inghilterra perché credo che proprio in queste ore forse ci dovrebbero essere delle altre votazioni, correggetemi se sbaglio, ma mi pare che stia tornando alla grande per esempio Nigel Farage. Quindi comunque un personaggio del quale si sta dicendo peste corna, oddio la Brexit, vedi che la Brexit non ha funzionato, fatto sta che pare che probabilmente continuerà e prenderà un sacco di voti lo stesso. Per cui ci sono anche queste situazioni di narrazione che poi vanno puntualmente contro quelle che sono le decisioni, diciamo, della maggioranza dei votanti. In Francia, voglio dire, la Le Pen ha stravinto, è chiaro, il primo ballottaggio stravince. Dopodiché creano delle stranissime alleanze totalmente innaturali per votare contro la Le Pen al secondo turno, vedremo come va a finire, ma mi chiedo veramente che cosa non ci sia di chiaro nell'espressione già di un voto, perché voi mi dite, no, evidentemente comunque ci vuole qualcosa di più, io sono molto d'accordo, ma ritengo che comunque il voto stia dicendo delle cose, o anche il non voto, cioè in questo sono anche d'accordo volendo con Fabio, no? Ci sono dei messaggi che comunque stanno arrivando dalla gente, non sono tutti a dormire secondo me, eppure bisogna creare dei meccanismi elettorali tali per cui comunque la gente deve sempre rimanere al palo. Secondo me il vero punto è anche un po' questo. Non so se Matteo ci sia, se no passo la parola anche a Diego così sentiamo un ultimo giro che cosa ne pensa. Vai vai Matteo, dica cosa ne pensi. Vai vai. Guarda, visto che mi chiedi la situazione giovanile in Italia, guarda, insomma, in effetti è una domanda per me molto, come dire, ostica, perché sentendomi rappresentato, diciamo, ecco, mi sento un po' nello sconforto, insomma, diciamo l'Italia più che altro vive questo problema demografico e insomma lo posso testimoniare, insomma non è più ecco come diceva all'inizio l'Italia che ha fatto gli ultimi 70 anni, anche per questo l'Italia si è fondata su dei valori perché anche c'era demograficamente un popolo che ha preso, come ha detto Massimo, ha usato una bella espressione, ha preso in mano il proprio destino, aveva l'età, aveva tutta l'energia nonostante quello, insomma, nonostante quello storico, la disfatta, che comunque fu una disfatta, ma ci sono stati appunto esempi eroici, anche all'interno della Costituente abbiamo avuto esponenti, insomma, che, come dire, possono essere presi come esempio di questo momento che forse sta tornando, cioè pensiamo a Giorgio Lapira, a Unghidini, se sentiamo, se andiamo a leggere proprio i discorsi, se andiamo a leggere i valori che c'erano dietro, cioè io non lo so, come dicevete, io sono giovane appunto, poi come dico sempre, diciamo un po' che scherzo, mi sento per chiudentro, però diciamo così, anagativamente giovane, cioè mi sembra che ci sia una grossa differenza rispetto a oggi, cioè io delle idee del genere non le so sincero, cioè si parla, come dire, di esperienze personali, ma anche, come dire, informandomi, non vedo lo stesso spessore, lo stesso spessore non lo vedo, non lo percepisco, diciamo così, questo soprattutto se rimaniamo fidizzati in quello che diceva all'inizio, nella politica quella, tra virgolette, di regime, cioè se stiamo ancora riusciti a questi partiti, secondo me, a queste logiche, non ne usciamo, non usciamo, cioè, forse ecco, la risposta è questa di cui c'è bisogno, che ci sia anche, come dire, un ritorno di, insomma, qualche energia fresca che riesca a riportare ossigeno proprio nelle menti, perché io, scusate se torno su un discorso un po' come dire, teorico, perché insomma io sono d'accordo su quasi tutto quello che avete detto, insomma, giustamente avete fatto le analisi giuste di tante questioni, però torno, scusate, su un piano più teorico, cioè quello che mi premeva prima, è preciso anche un po' la Katia, perché ti all'inizio hai detto che io ho posto un problema di emergenza, ma ecco, non è tanto un'emergenza, è un discorso di, come dire, cioè quello che mi chiedo, non siamo veramente in un'altra dimensione rispetto a quello che erano trent'anni fa, cioè, su cosa, ripeto, è nato un popolo, il nostro popolo è nato, o meglio, le generazioni precedenti, su un, come dire, delle vicende, una mentalità che erano quelle dei nostri nonni, delle nostre generazioni precedenti, hanno vissuto la guerra, hanno vissuto i valori dell'antifascismo, della resistenza, il boom economico, il piano Marshall, ok, c'era una situazione anche, diciamo così, economica, tecnologica, no, peculiare, era quel boom economico che ha portato il consumismo di massa, ha portato, diciamo così, a un certo stile di vita, ecco, ma oggi è rimasto quello stile di vita, cioè, oggi viviamo con degli smartphone sempre attaccati al corpo, cioè, siamo a quel livello ormai, ma non a caso queste cose vengono prese in considerazione in altre, come dire, in altre istanze, se pensiamo sempre alla Francia, mi viene in mente, in effetti ci sono queste cose, uno, Macron mi viene in mente, fece una politica l'anno scorso, non mi ricordo se le più mesi di quest'anno, cambia proprio incidere sull'utilizzo degli smartphone, ad esempio, mi sembra che Pietro ha vietato l'utilizzo degli smartphone, diciamo così, a livello pubblico nelle scuole, fino ai 13 anni di età, ad esempio, no, per i ragazzi nelle scuole, poi mi sembra che, insomma, correggetemi se sbaglio, in Francia anche hanno vietato l'implementazione della didattica digitale, cioè, le nostre scuole, le nuove generazioni, cioè, io che faccio parte di queste generazioni, stiamo vivendo una didattica digitale, stiamo vivendo un mondo virtuale, cioè, prima non c'era questa cosa, tra l'altro, sempre rimanendo sul discorso giovani, in Francia anche sempre, cioè, c'è questo Ioan Bardella, no, Giordano Bardella, c'è la mia età, anzi, è un anno più grande di me, cioè, rendiamoci conto, è in Italia impensabile, è un 28enne che rischia di diventare Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, scusate, in Francia, ecco, in Italia è un caso particolare, ripeto, quindi su questo io vengo molto incontro a Fabio, cioè, noi bisogna avere una consapevolezza, ora, globale è una brutta parola, però, giustamente, il nostro mondo è connesso con tante questioni globali, non possiamo essermi ciechi, chiuderci gli occhi e lo vecchio a riguardo, però bisogna partire dal nostro territorio, bisogna partire dal nostro mondo locale e ambientale, perché, ripeto, è peculiare la nostra situazione, anche a livello politico spuso, scusate, qualcuno mi sta parlando sopra o posso continuare? No, no, sono io, sono io perché tra un po' passano i minuti e quindi, purtroppo, dovremmo chiudere, però finisci pure il concetto, Matteo, finisci. Ok, va bene, va bene, sarò cederrimo. Insomma, qual è la cosa, come dire, che a livello teorico, più che teorico, diciamo, come dire, riflessivo, tenevo, ecco, non è tanto un discorso di emergenza o, come dire, di questioni che riguardano soltanto, cioè, secondo me il voto è un segnale, ecco, diciamo così, non è il territorio, la cartina il voto, la cartina di che cosa? Cioè, non è che forse veramente, e ripeto, la maggioranza estensionista, secondo me è un grosso segnale, che non è tanto un po' che, come dire, sta in poltrona, perché sicuramente c'è anche quello, ma c'è sempre stato, c'è sempre stato, quello c'è anche in altre, come dire, non è una cosa nemmeno forse italiana, ma non è forse il segnale che non c'è più la risposta ad un mondo che è cambiato in tutto, in tutto, cioè nel senso, non siamo forse un nuovo popolo, cioè io azzardo ad arrivare a questa, non siamo forse un nuovo popolo italiano rispetto alle generazioni di 30, 40 anni, 50 anni fa, cioè io, non lo so, per essere un ventenne, magari c'è anche, come dire, una visione molto chiusa, però giustamente, ovviamente, non ho l'esperienza che potete avere, voi che possono avere persone più, graficamente, che hanno vissuto di più la storia, però mi sento molto, ecco, questa spaccatura, proprio, ripeto, politico-storica rispetto a un mondo precedente, che è un mondo vicino, che però, mi sembra, come dire, che vada presa, insomma, questa nuova fase mi sembra vada presa in considerazione in modo molto complesso, molto complesso in tutto, dall'economia, dal, ripeto, dal, cioè, c'è un mondo globale con istituzioni internazionali come l'ONU, che governano, di fatto, gli stati con politiche sanitarie, politiche, insomma, che gestiscono questioni ormai a livello regionale, istituzioni sovranazionali, siamo qui a parlare di un'europea, capito? Queste cose prima, diciamo così, non è che non c'erano, ma erano… Matteo, ti devo fermare, Matteo, ti voglio tanto bene, ti devo fermare, no, più che altro perché vorrei dare, perché abbiamo veramente per testa una sorta di domanda, no, cioè, quindi che si fa? Cioè, il problema resta, no? Cioè, tutte le cose che sono state dette sono tutte giuste, però quali sono le soluzioni che effettivamente possiamo provare ad adottare, perché voglio dire, oltretutto fare anche politica, così la butto lì in modo molto pragmatico, costa anche, quindi che cos'è che si può fare effettivamente in questo momento, oltre a quello che stiamo facendo tra di noi. A chi parla? Diego, ma non lo sento. Ah, Diego, se volete lo rispondo io. Quello che si può fare, allora, diciamo che a livello europeo chiaramente non ha senso votare, ok? Questo è evidente, perché non è che per non legittimare, ma proprio perché si andrebbero comunque ad eleggere persone che non hanno iniziativa legislativa, perché il Parlamento europeo non ha iniziativa legislativa, quindi andare a votare è proprio una presa per il... scusate, proprio una presa in giro, andare a votare per il Parlamento europeo, a meno che non si vadano a votare chiaramente quelle persone che vanno lì per tipo Nigel Farage, per avere visibilità e portare avanti un discorso controcorrente, radicalmente controcorrente. Per quanto riguarda invece le elezioni politiche di uno Stato, all'interno di uno Stato come l'Italia, e lì invece la situazione cambia. Non si può non andare ad appoggiare l'assenzionismo durante delle elezioni politiche, perché lì si fa un grosso, un grosso danno a noi stessi, a noi cittadini. Perché? Perché a parcedere lo so che non importa legge elettorale, però anche se va a votare la nonna di un politico le elezioni sono valide, se non va a votare nessuno le elezioni sono valide, e il Parlamento si forma lo stesso, non cambia niente. Semplicemente gli semplificiamo il problema, non devono neanche contare i voti. Formano subito il Parlamento e ciaone. Ok? Finché non c'è una legge elettorale che ci dice, se va a votare meno del 40%, 50%, il Parlamento viene sciolto, si mette delle figure tecniche senza colore, che magari, non so, si avvalgono dei referendum consultivi per fare le leggi eventualmente, va benissimo. Si fa una sorta di democrazia diretta all'emergenza, è ok. Se lo sto votando là, eh. Però così, se non c'è una legge del genere, non andare a votare alle proprie politiche dove chi eleggi non è che va a governare. Allora, qui bisogna anche fare una distinzione rispetto a quello che ha detto Mattarella. Quando noi votiamo il Parlamento nazionale, noi votiamo il governo. Perché nel senso che il governo, noi stiamo stupidamente abituati a pensare che sia l'esecutivo. Ok? Ma non è l'esecutivo che governa, l'esecutivo esegue. Esegue che cosa? Quello che decide il Parlamento. Perché il governo, un altro che non è che è la forma più alta di amministrazione della nazione che esegue quello che decide il Parlamento. Il Parlamento è il governo, cioè la sede del potere legislativo. Noi votiamo il Parlamento. Il Parlamento decide e non decide la dittatura della maggioranza. Decide cosa, il confronto tra le varie dettagli e le forze per la legge e la legge poi va fatta poi al governo. Ok, ma Diego, quindi la tua osservazione è chiarissima. Quindi comunque in ogni caso, quello che tu suggerisci è, in ogni caso proviamo a trovare qualcuno da votare, però votiamo, non fermiamoci. O si trova qualcuno da votare, sono due le scelte, o si trova qualcuno da votare, o si prende il governo con la forza, non so chi. Cioè non è che ci sono tante scelte, eh? E fare un colpo di Stato, una guerra civile, non mi sembra il caso, ecco. A meno che non sobbiamo una guerra. No, direi, insomma, eh, vabbè, ma lì purtroppo. Esatto. Fabio, che cosa ne pensi? Allora, intanto ci vorrei chiarire un aspetto fondamentale, cioè il fatto che basti anche lo zero virgola di quorum, questo non vuol dire che un governo è democratico. Cioè, dal momento che la maggioranza non partecipa, il governo non è democratico. Questo non è che si può scrivere la democrazia in una legge. Cioè, la democrazia si manifesta. Se la maggioranza non partecipa, il governo di fatto non è democratico. I nostri poi non sono democratici. Perché? Perché ora, riprendendo le parole di Mattarella, che io ho letto ora, dovrebbero essere recenti, insomma, mi hanno sorpreso, ma neanche più di tanto. Dove lui, giustamente mi ha detto Massimo, eh, sono di un relativismo, eh, incredibile queste parole. Cioè, sta tirando la democrazia come gli pare a lui. Cioè, la democrazia è un concetto molto semplice. Il potere è del popolo. La svanità è del popolo e chi va lì a rappresentare il popolo deve fare quello che dice il popolo. Almeno sui concetti più importanti, come diceva Massimo. Cioè, se il popolo, eh, dell'Europa non ne vuole sapere niente, se l'Europa, se il popolo dell'avorto non ne vuole sapere niente. Cioè, queste cose devono essere, devono essere, andare nella direzione che dice il popolo. Poi, certo, non è che si può fare un referendum per ogni cosa, però sulle cose fondamentali, eh, eh, poi c'è da rispettare una Costituzione. Quindi, insomma, non è che il fatto che Mattarella tiri la democrazia come vuole per mantenere lo status quo di questa situazione, eh, è veramente pericoloso, eh, sono parole pericolose dette da un Presidente che dovrebbe, eh, custodire la Costituzione. E questo mi conferma il fatto che loro hanno paura di questo astensionismo, capito? Ora, le rileggeremo con calma a casa queste parole, ci potremmo fare anche degli articoli, potremmo potremmo anche chiedere delle spiegazioni, potremmo anche chiedere, eh, al Presidente della Repubblica, perché, insomma, mi sembra abbastanza dicano tutto il contrario di tutto queste parole qua. Detto questo, cosa si fa per rispondere alla domanda di Katia e poi per essere breve? Eh, cosa si fa? Io sono dalla parte di Massimo, che l'ha detto anche l'altra volta, mi sembra. Cioè, dobbiamo ricominciare noi popolo, ognuno singolarmente, a rifare politica, a rifare politica per andare a cambiare questo sistema dei partiti, perché il tarlo è lì dentro. Cioè, te giustamente Diego hai detto, dobbiamo votare qualcuno, dobbiamo mettere qualcuno, ma il problema è che oggi tutto è controllato dal sistema dei partiti. Te non ti puoi candidare, se non sei gradito al sistema non ti fanno neanche... Sì, scusate un secondo Matteo, completo. Te se non sei gradito al sistema non ti fanno neanche candidare, quindi non c'è la possibilità di cambiare il sistema. Questo è appunto il mio lavoro. Poi l'argomento sarebbe talmente vasto, però lascio spazio agli altri. Eh? Ok. Posso farlo velocissimamente. Allora, qui avete detto tutta una cosa, giustamente bisogna ritornare a portare il popolo a essere consapevole e ripartecipare, giustissimo. Però la mia domanda è, cioè, ma siamo veramente lo stesso popolo che c'è stato fino a 70 anni? Cioè, nel senso che qual è il popolo di oggi? È quello che ragiona, che vota il PD perché la Melonia è fascista, perché dilaccia tutto il fascismo? È quello che sono quelli che votano, capito, i partiti di destra attuali perché pensano che ancora sia un'alternativa? Cioè, so che questo è il popolo. E questo è veramente... Vedete, c'è un problema, secondo me, di capire prima chi siamo noi. Cioè, capire... Non so se mi spiego. Cioè, non è solo un discorso di vedere se ce la fa parlare. Cioè, qui in Italia, ripeto, non abbiamo più un volto che sia mezzo, non so se mi spiego. Cioè, i partiti antisistema, cioè, ci si è provato a farli, ci hanno fatto sei liste nel... qualche anno fa, hanno fatto sei liste che giustamente qualcuno facevano stare, sembravano fatte apposta per non superare la sua risparmamento. Cioè, è una questione proprio matematica. E quindi, il che si fa diventa... Sì, ma questo non è perché il popolo è cambiato. Siamo noi, viva. Questo non è perché il popolo è cambiato. Questo è perché il sistema dei partiti si organizza in questa maniera per arrivare a un determinato risultato. Però, sì, sì, ma che sai... Cioè, ma il popolo italiano, ripeto, sono quelli... Cioè, in realtà sono gli ascensionisti, abbiamo capito, no? Perché è la maggioranza. Però, vedi che ancora, cioè, diciamo così, c'è ancora questa... Insomma, come dire, almeno a livello superficiale, effettivo, c'è ancora questa... Il sistema dei partiti rappresenta questo, quindi... Cioè, io so che se d'accordo con me bisogna metterlo in crisi, in discussione, questo sistema. Però, cioè, capito, non so se... Prima, ripeto, noi ascensionisti, come facciamo a riconoscersi in qualcosa di unito? Lo siamo? Cioè, siamo tutti, questo 50%, sono tutti come Fabio, come Matteo? No, secondo me, io ti dico la mia... Secondo me, secondo me, no, scusate se interroge, cioè, secondo me, ti devi comunque dare una forma, a mio avviso, partitica, per riconoscerti nei contenuti. Questa è la mia opinione, però è la mia opinione personalissima. Volevo passare la parola a Massimo per chiudere un attimo. Matteo, stavi dicendo ancora qualche cosa? Se no, la passo a Massimo, così poi ci salutiamo. No, no, ma faccio... Vado io? Ok, allora, sono d'accordo con Katia che bisogna comunque fare politica, ma darsi anche una forma, alla fine partitica, perché appunto si fa una guerra civile, ma siamo tutti d'accordo, che non sequestra la strada, oppure si deve prendere il potere per la via politica e quindi bisogna comunque darsi un'organizzazione di tipo partitico. Questo è chiaro che non è facile, perché purtroppo anche lì ci vogliono i soldi, ma appunto se si è in tanti, basta metterci tutti, 10, 20, 50, chi può di più, euro, anzi lire in futuro, e quindi si può fare se si vuole. Se si pensa che sia importante, si può assolutamente fare. Il problema è che evidentemente la gente comune ritiene che non sia importante, che siano più importanti altre cose. Forse è questo che voleva dire Matteo quando parlava di magari il popolo non è più quello di una volta, non lo so. Non so se sia questo. Noi dobbiamo riuscire nel medio periodo a darci un'organizzazione in forma partitica, ma un'organizzazione che porti anche conoscenza a chi vuole partecipare. Da subito però bisogna cominciare a fare pressioni, cioè quello che dovrebbero fare i sindacati, quello che dovrebbero fare altri tipi di organizzazioni, ma noi siamo comunque organizzati come cittadini in Italia in migliaia, decine di migliaia di associazioni, dove però ognuno, ogni presidente di queste associazioni, di 5 persone, di 10 persone, di 20 persone, si crede il padre eterno e non vuole mettersi d'accordo con gli altri, non vuole perdere che cosa poi? Il podio? Ma di che podio stiamo parlando? Siamo tutti, parliamoci chiaro, siamo tutti delle nullità, anche se sei presidente dell'associazione Pinco Pallo, sei comunque una nullità, ok? Sei uno che cerca di fare qualcosa, ma se per fare qualcosa di più devi diminuire te stesso, ma diminuisci te stesso, quello che è importante è fare le cose per la comunità anche, cioè vivere quello che facciamo come un servizio agli altri, se non riusciamo a fare questo scatto, rimaniamo sempre concentrati sul nostro ombelico, non arriveremo del senno a parte. E su questo direi che ci sarebbe un'altra, almeno un'altra ora di chiacchiere da fare sulla questione della leadership, la classe dirigente italiana, gli obiettivi, tornare a quello che diceva Matteo, quindi sentite anche quello che volevate dire ancora voi rispetto alle sollecitazioni, ma il nostro tempo è veramente finito, e siccome il nostro è un bel discorso interessante, siamo andati anche oltre, però va bene così, insomma. Io vi ringrazio e ci sentiamo la settimana prossima, vediamo di trovare fuori un altro argomento di quelli belli interessanti. Grazie mille a tutti voi, grazie anche a Matteo che... Grazie a tutti voi, a tutti anche che ti ascolta in un momento di sbroloqui. Che ha pazienza di ascoltarci. Buona serata. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Buona serata. Buona serata. Grazie a tutti.